In 21 anni di attività giornalistica ho segnalato, senza esagerazione, migliaia di situazioni di degrado nel centro e nelle periferie. Credetemi, mi sono davvero stancato di ripetere le stesse cose perché le situazioni non cambiavano, anzi peggioravano. Potevo benissimo registrare, congelare, archiviare quei servizi e poi dopo un annetto quei servizi sarebbero stati di perfetta attualità. Ho deciso di candidarmi sindaco per invertire la rotta, per intervenire in prima persona. Conosco come le mie tasche il centro e le periferie. Oggi ci troviamo a Taranto 2, nelle vicinanze di via Cripta del Redentore, un'area completamente abbandonata eppure un'area importantissima perché presenta innanzitutto varie strutture di importanza, strutture istituzionali, realtà istituzionali come per esempio la sede principale della Guardia di Finanza, la Questura insiste nella zona, la casa di cura, la clinica Bernardini, c'è una chiesa, mi pare Spirito Santo. Insomma parliamo di un'area molto ma molto frequentata, un'area importante, un'area in cui insistono anche varie attività commerciali importanti. Qui guardate un degrado assoluto, ettari ed ettari di terreno abbandonati, mai bonificati, in cui regnano sovrani, insetti, ratti e quant'altro. Ci sono dunque ragioni di proprio igiene pubblica. È assurdo pensare che l'amministrazione Melucci-Musillo non ha mai fatto nulla. L'ex sindaco Musillo si è completamente disinteressato di questa zona, l'ha ignorata completamente, come se fossero cittadini di serie C e insieme a lui Walter Musillo, ora candidato sindaco del centrodestra, ora pentito politico che ha amministrato con Melucci quattro anni e mezzo. È corresponsabile Walter Musillo, altro che fa il verginello politico. Basta spostarci di qualche metro e vedete un altro scempio, come si trovano, appunto, qual è lo stato di questo spartitraffico pericolosissimo perché le radici hanno sollevato l'asfalto, qui la pavimentazione non è mai esistita e si viene a creare un'area, una zona completamente sconnessa con dei saliscendi che purtroppo determinano quasi matematicamente le cadute. Tanta gente cade, penso soprattutto agli anziani e vi lascio immaginare le conseguenze talvolta letali che una caduta per un anziano comporta. Guardate, qui questo spartitraffico va completamente rifatto facendosi appunto che la parte sollevata dalle radici possa essere contenuta e parificata, onde evitare questi dislivelli. Ma anche qui, guardate, l'asfalto si è completamente sbriciolato, sgretolato perché nessuno mai è intervenuto. Un degrado assoluto. Che dire? abitanti di Taranto 2, vogliamo invertire la rotta o vogliamo restare così? Da voi dipende la decisione, penso che meritiate molto ma molto di più. Siete cittadini che pagate regolarmente le tasse e pretendete servizi e non vi fidate di chi arriva solo ora in campagna elettorale per farsi bello e per chiedere il voto. Melucce e Musillo in 4 anni e mezzo si sono dimenticati di voi, io no, sono stato sempre dalla parte del cittadino. Ricordate, ricordatelo quel giorno, il 12 giugno, quando andrete in cabina elettorale. Forza Taranto 2, forza davvero!